Musica Buona domenica, ben ritrovati per la nostra rubrica settimanale 7 giugni di cronaca per ripercorrere gli eventi più importanti di questa settimana largo spazio al tema della sanità Paolo Frattura prosegue in perterrito nel suo piano di distruzione della sanità pubblica alternando macelleria sociale favore ai suoi alleati politici e il malcontento popolare sale alle stelle sentiamo in proposito il nostro direttore Emanuela Petescia Che Paolo di Laura Frattura si muova in campo sanitario senza alcun progetto complessivo prono al volere degli strateghi romani e anzi orgoglioso di questa sua sudditanza fino a farsene un vanto lo dimostra la recente autorizzazione dei posti letto alla struttura privata di Salcito nel bel mezzo dell'opera di smantellamento degli ospedali pubblici e dopo che lo stesso Frattura si era pubblicamente impegnato a revocare un provvedimento che avvantaggia sfacciatamente il suo principale alleato politico che guarda caso proprio in questi giorni ha annunciato di voler rinnovare il suo appoggio a Frattura in vista delle prossime elezioni regionali La spiegazione che la ASREM ha tirato fuori dal cilindro per Salcito una cosa è l'autorizzazione, un'altra l'accreditamento ricorda le famose scarpe spaiate del comandante Lauro Come dire, per adesso vi diamo l'autorizzazione, dopo le elezioni vediamo Ma che il centro sia in possesso dei requisiti richiesti non sposta di una virgola il ragionamento che i 60 posti letto destinati alla riabilitazione extra ospedaliera e previsti nei piani operativi sanitari del Molise potevano essere autorizzati, per poi finire accreditati ai tre ex ospedali di Venafro, Agnone e Larino invece che a una struttura privata salvando così i numerosi posti di lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari Ma Frattura non si sta limitando a massacrare il sistema sanitario pubblico a vantaggio di quello privato, riducendo gli ospedali di fatto a centri per la cura della tonsillite Frattura sta buttando gli ammalati direttamente in mezzo a una strada Ha cancellato con un colpo di spugna le sale di intervento vascolare e neurochirurgico senza minimamente preoccuparsi di calcolare le distanze e i percorsi per raggiungere il neuromed di Pozzilli e ne abbiamo visto recentemente i risultati Se qualcuno gli chiedesse in cosa consista un'emergenza a tempo dipendente Frattura risponderebbe con molta probabilità con le parole del celebre personaggio di Carlo Verdone Un sacco bello Frattura è passato come una trebbiatrice sui posti letto riservati ai malati oncologici anche qui senza preoccuparsi di sostituire questa forma di assistenza ospedaliera quantomeno con l'organizzazione della medicina territoriale o domiciliare e anche qui se qualcuno gli chiedesse lumi risponderebbe un sacco bello E così via Chiudo il caracciolo di Agnone un sacco bello Taglio Larino e Venafro un sacco bello Di mezzo il cardarelli di Campobasso un sacco bello ed estendendo la metafora ad altri ambiti di competenza del Presidente della Regione sono state un sacco belle anche le chiusure della gamma dello zuccherificio e a catena delle principali aziende molisane senza alcun piano strategico alternativo se non quello ecumenico di arrangiarsi e pregare Sotto i punti peraltro dissestati come il 90% delle strade molisane sono finiti dunque sia gli ammalati che i lavoratori è questo il bilancio dell'amministrazione di Paolo Frattura e sarà il voto questa volta si spera un sacco bello senza metafora a rendere giustizia alla nostra terra così malamente governata intanto arriva un altro duro colpo per l'ospedale di Agnone è stata infatti disposta alla chiusura immediata del reparto di chirurgia e se questa è la risposta di Frattura gli consiglio di non venire più in Alto Molise è il commento di Don Francesco Martino sentiamo Sergio Di Vincenzo solo carta straccia il riconoscimento di ospedale di area disagiata sbandierato ai 4 venti sa solo di presa in giro se altrove i presidi con gli stessi requisiti hanno conservato i servizi essenziali ottenendo in alcuni casi anche qualcosa in più ad Agnone l'opera di smantellamento va avanti senza colpo ferire nel silenzio di tutti come già denunciato da Nunzia Zarlenga fondatrice del comitato Il Cittadino C'è l'ultimo fax inviato dalla direzione generale della ASREM ha fatto gelare il sangue al personale ai pazienti del caracciolo facendo seguito al nuovo atto aziendale è stata infatti annunciata la disattivazione dell'unità di chirurgia generale dell'ospedale di Agnone e disposto il blocco immediato dei ricoveri ordinari e le successive progressive dimissioni dei pazienti ricoverati se questa è la risposta del governatore Frattura a questo punto gli consiglierei di non presentarsi più in Alto Molise questo provvedimento contraddice tutto ciò che ha promesso ha commentato Don Francesco Martino simbolo delle battaglie in difesa del caracciolo chirurgia per intenderci è quel reparto che solo qualche anno fa sotto la direzione del dottor Iavicoli era considerato un'eccellenza nel panorama sanitario nazionale richiamava pazienti da tutte le regioni vicine grazie anche a una serie di innovazioni introdotte tra queste la possibilità di recuperare il sangue evitando così le trasfusioni a pazienti con esigenze particolari ed è lo stesso reparto che si ritrova con una sala operatoria rimessa a nuovo un annetto fa con una spesa di 150.000 euro e che ora servirà a poco o niente a maggior ragione perché mancano anche gli anestesisti più che a un ospedale dunque il caracciolo somiglia sempre più a un ambulatorio da un lato i servizi diminuiscono dall'altro c'è il personale che va in pensione che non viene sostituito e chi resta medita di essere trasferito nelle ultime settimane più che alle interrogazioni parlamentari e agli incontri al ministero ci si era aggrappati al ricorso al Tarmolise ma il rinvio dell'udienza a gennaio del 2018 ha il sapore di una sconfitta un'eventuale sentenza favorevole ai ricorrenti arriverebbe fuori tempo massimo con le sorti dell'ospedale già decise da un pezzo e invettive rabbia e esasperazione esplose ancora una volta tra 70 pazienti in attesa al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso un vero e proprio caos superato solo grazie all'abnegazione dei due medici di turno intanto il direttore generale dell'ASREM Lucchetti replica sulla chiusura del reparto oncologico dell'ospedale regionale ma di fatto conferma la situazione denunciata Giovanni Minicozzi disagi collera e invettive dei pazienti nei confronti dei fautori del piano operativo elaborato dalla struttura commissariale e ora trasformato in legge dello Stato dal Parlamento italiano scene raccapriccianti si sono verificate per l'ennesima volta al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso 70 pazienti in attesa per ore e ore con i due medici in servizio e gli infermieri che nonostante il loro impegno non sono riusciti a smaltire il pesante carico di lavoro box del pronto soccorso stracolmi di pazienti adagiati sulle barelle in attesa di un posto letto che non c'è per via dei tagli imposti dal tavolo nazionale e accettati dalla regione senza un minimo tentativo di difendere il diritto alla salute dei molisani al cospetto di quelle scene della rabbia esplosa dopo ore di inutile attesa viene da pensare che forse un ospedale del Burundi sia più organizzato del Cardarelli e risponde meglio alle richieste di assistenza dei cittadini tornando ai fatti nostrani c'è da dire che i 70 pazienti in attesa al pronto soccorso sono stati smaltiti dopo ore dai due medici di turno i quali si sono assunti responsabilità non dovute rinviando al giorno successivo gli ulteriori controlli per le persone con apparenti patologie meno gravi intanto il direttore sanitario dell'ASREM Lucchetti ha replicato sulla chiusura del reparto di oncologia del Cardarelli specificando che esistono sei posti in dei hospital per curare i malati oncologici e che è in atto una collaborazione professionale tra gli oncologi del servizio pubblico e gli specialisti della fondazione Giovanni Paolo II di fatto però Lucchetti conferma che il protocollo tra le due strutture ancora non è stato sottoscritto cancellare un reparto tanto importante peraltro gestito da oncologi professionalmente e umanamente di altissimo valore è stato un errore paradossale che costringerà i pazienti molisani a regarsi fuori regione per continuare a curarsi il dottor Lucchetti sa bene che un malato oncologico molto spesso è immunodepresso e non può essere ricoverato in un reparto generalista come quello di medicina ma tant'è loro continuano a difendere scelte infelici fatte sulla pelle dei molisani più bisognosi di cure e di rispetto ancora sanità con la sospensione dell'OTA da parte del TAR si è chiuso il cerchio su quanto denunciato dalla nostra emittente in merito a possibili conflitti di interesse tra la regione e le strutture private accreditate il commissario ad acta Paolo Frattura ha modificato per tre volte il decreto fino ad inserire nell'organismo tecnicamente accreditante due rappresentanti delle strutture private precisamente Neuromed e fondazione Giovanni Paolo II sulla vicenda indaga la procura la sospensione dell'organismo tecnicamente accreditante decisa dal TAR chiude il cerchio e anche le polemiche su una serie di dubbi che avevamo sollevato nei giorni scorsi in particolare il convitto di interessi che ha ispirato la decisione dei giudici amministrativi rende chiaro che l'autorizzazione per i 60 posti letto concessi dall'OTA alla fondazione Pavone Neuromed di Salcito per la riabilitazione extra ospedaliera e il repentino cambio di rotta della regione sulla mancanza di più requisiti per mantenere l'accreditamento da parte della fondazione Giovanni Paolo II nasconde commistioni di interessi concreti che travalicano e di molto la trasparenza amministrativa e la legalità per comprendere meglio fatti e circostanze è opportuno elencare l'escalation imposta nel tempo all'organismo tecnicamente accreditante nato con decreto numero 15 del 4 marzo 2016 emanato dal commissario ad acta Paolo Frattura e controfirmato dall'allora direttore generale della salute Marinella D'Innocenzo e dal responsabile del servizio Francesco Sforza lo stesso che ha chiesto rettifica inesistente al nostro servizio sul direttore sanitario della fondazione Zappia il primo decreto non prevedeva la presenza dei dirigenti tecnici di Neuromed e di fondazione Giovanni Paolo II in data 28 aprile 2016 il commissario Frattura annullava il primo decreto e lo rimpiazzava con il numero 22 al solo scopo di sostituire il dirigente medico dell'ASREM Carmen Montanaro area Termoli con Cosmo Antenucci dirigente medico area di Isernia ma la quadratura del cerchio arriva con il decreto numero 65 emanato sempre dal commissario Paolo Frattura e controfirmato dall'innocenzo e dal solito Sforza con il quale si annullavano i primi due decreti si ricostituiva l'OTA e venivano inseriti due rappresentanti delle strutture private accreditate uno per Neuromed e uno per la Fondazione nasce così il mega conflitto di interessi a vantaggio di due strutture private accreditate Neuromed e Fondazione appunto e di una struttura autorizzata per la riabilitazione extraterospedaliera ovvero Pavone Neuromed di Salcito sulla quale peraltro nessuna risposta è giunta dalla regione circa l'attività pregressa svolta dalla struttura di fatto non autorizzata tutto accade mentre la sanità pubblica non riesce più a garantire i livelli essenziali di assistenza ai molisani siamo arrivati dunque al capolinea di una vicenda politico-sanitaria sulla quale le istituzioni preposte al controllo ANAC e Procura della Repubblica non certo la regione hanno il dovere di fare piena luce cambiamo argomento a proda in Parlamento il caso Bari quello che ha visto protagonisti il magistrato Fabio Papa e la direttrice di Telemolise Emanuela Petescia vittime innocenti di una denuncia formulata dal presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura a chiedere ai ministri della giustizia e dell'interno al presidente del consiglio di riferire in aula sono 17 senatori del gruppo Federazione della Libertà Pasquale Di Bello a chiedere adesso che venga fatta piena luce sul caso Bari quello che ha visto coinvolti il magistrato Fabio Papa e la direttrice di Telemolise Emanuela Petescia vittime di una denuncia formulata dal presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura sono 17 senatori della Repubblica con un'interrogazione ai ministri della giustizia e dell'interno e al presidente del consiglio primo firmatario Gaetano Quagliariello i 17 parlamentari aderenti al gruppo Federazione della Libertà chiedono ai responsabili dei rispettivi dicasteri al capo del governo di riferire in aula fatti e circostanze inerenti l'indagine condotta a suo tempo dalla squadra mobile di Campobasso indagine più volte denunciata per vistose violazioni e manipolazioni e tuttavia usata dal governatore Frattura nella vicenda di Bari il presidente della regione aveva infatti accusato Papa e Petescia di un presunto ricatto avvenuto ai propri danni portando a sostegno delle sue tesi proprio l'indagine sul sistema Iorio incardinata a Campobasso nelle parti che il direttore di Telemolise aveva invece precedentemente denunciato una menzogna colossale insomma smascherata come tale dal tribunale di Bari che ha disintegrato quel racconto pronunciando lo scorso 4 maggio la soluzione con formula piena per i due imputati perché il fatto non sussiste adesso si apre un altro capitolo in più circostanze e anche attraverso specifiche denunce la direttrice Petescia ha segnalato l'anomalia dell'indagine condotta dalla squadra mobile del tempo diretta all'epoca da Giuseppe Annichiarico la quale avrebbe alterato gli atti attraverso forzature falsificazioni artificiose ricostruzioni e manipolazione delle intercettazioni un'accusa gravissima quella ipotizzata da Petescia che apre uno squarcio inquietante sui metodi e sulle procedure d'indagine della questura di Campobasso dell'epoca guidata da Giancarlo Pozzo sempre all'epoca vicequestore capo di gabinetto della questura risultava Giuliana Di Laura Frattura sorella del presidente un ulteriore elemento che secondo Petescia avrebbe condizionato l'indagine poi approdata a Bari una matassa come comprensibile intrigatissima che i 17 senatori vogliono sbrogliare per questo chiedono di accertare esattamente quanto accaduto alla questura di Campobasso al tempo dei fatti e accertare la congruità e la liceità dei comportamenti della squadra mobile dell'epoca adesso la parola passa al governo italiano e ai suoi rappresentanti e la vicenda farà rumore prima tra tutte potrebbe rotolare proprio la testa di frattura gli interroganti infatti paventano l'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione ai fini della rimozione del presidente della regione cambiamo argomento vediamo la cronaca operazione antidroga dei carabinieri della compagna di Termoli in manette due giovani di 24 e 42 anni di San Giacomo degli Schiavoni accusati di spaccio e coltivazione di stupefacenti in un armadio è stata scoperta una vera e propria serra Fabrizio Occhionero sono stati fermati per un controllo dai carabinieri della compagnia di Termoli coordinati dal maggiore Fabio Ficuccello sul sedile posteriore dell'auto e militari hanno trovato alcune piantine di marijuana i due giovani che si trovavano a bordo di 24 e 42 anni incensurati e residenti a San Giacomo degli Schiavoni sono finiti in manette per spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti il controllo è continuato a casa e qui i carabinieri hanno trovato 10 stecche per 70 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana già divisi in dosi oltre ad altre piantine come quelle scoperte in macchina a insospettirli è stato anche un grosso armadio all'interno era stata creata una sorta di serra per coltivare la droga faretti timer e altri accorgimenti tecnici per far crescere le piantine di marijuana lo stupefacente tutto il materiale venuto fuori dalla perquisizione sono stati sequestrati i due sono stati trasferiti al carcere di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria intanto i controlli antidroga della compagnia di termoli con le varie stazioni dei comuni saranno amplificati sull'intero territorio nel corso dell'estate con l'arrivo di turisti dall'Italia e dall'estero proseguono a Castel San Vincenzo le manifestazioni di protesta per contrastare il progetto che prevede la realizzazione di un'isola ecologica nelle vicinanze del lago in settimana potrebbero emergere delle novità importanti sentiamo il nome del comitato è ironico visto che si batte per la valorizzazione dei rifiuti lacustri ma le intenzioni sono serissime le manifestazioni di protesta andranno avanti fino a quando il comune di Castel San Vincenzo non rivedrà il progetto che prevede la realizzazione di un'isola ecologica a ridosso del lago durante l'ultimo sit-in sono emerse delle novità importanti ossia l'interessamento da parte dei rappresentanti del ministero dei beni culturali presenti in regione proteste che ci saranno fino a quando questa amministrazione di Castel San Vincenzo non capirà che non si può valorizzare un lago o tutto quello che c'è intorno con un'isola ecologica cioè con una sorta di scarica le novità più importanti sono che il neodirettore dei beni culturali professor Ventura ha convocato per giovedì i tre comuni interessati quindi Cerro Scapoli e Castel San Vincenzo per capire con loro quali possono essere come dire i modi per superare questo impasto questa soluzione sappiamo dalle nostre informazioni che il comune di Cerro cambierà sito e quindi questo già dimostra quanto si può essere intelligenti in questo modo Scapoli non aveva problemi di sorta e invece quello grosso l'ostacolo è Castel San Vincenzo che è sul lago da questo tavolo emergeranno credo cose importanti la prossima iniziativa è fissata per venerdì 9 giugno a partire dalle 17.30 è prevista un'assemblea pubblica nella piazza principale di Castel San Vincenzo gli organizzatori si augurano che all'incontro partecipino anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale in modo da avviare un confronto costruttivo in ogni caso per i manifestanti il progetto va rivisto anche per via di un'altra importante novità Castel San Vincenzo in modo particolare il sito monastico e il sito archeologico sono stati inseriti nella lista del patrimonio dell'UNESCO il che significa che appena questa organizzazione saprà della realizzazione di queste isole archeologiche cancellerà il sito di Castel San Vincenzo e non solo insieme a lui partiranno altri otto comuni italiani collegati a questo stesso progetto ci vogliamo mettere di fronte a questo tipo di situazione vogliamo veramente far capire al mondo intero che noi piuttosto che valorizzare rispettare costruiamo discariche beh io credo che ce n'è abbastanza per mettere fine a questa sceneggiata e Carrese ad alta tensione quella di Porto Cannone caratterizzata da sorpassi dalle cadute dei buoi l'edizione del 2017 è stata vinta dai giovanotti sentiamo Manuela Iori una Carrese ad alta tensione quella di Porto Cannone che tradizionalmente si svolge lunedì dopo la Pentecoste a inforcare per primi l'arco di Borgo Costantinopoli sono stati i buoi del carro dei giovanotti a seguire con un netto di stacco i giovani e i giovani a cui però non è stato assegnato il secondo e terzo posto proprio perché gli animali sono arrivati senza il carro una corsa al cardiopalma caratterizzata da sorpassi e da cadute in particolare quella dei giovani prima e dei giovanetti e poi avvenuta quest'ultima in zona stadio a quasi un chilometro dall'arrivo mentre i sostenitori dei giovanotti già facevano festa nel cuore del paese in largo Costantinopoli la tensione era altissima invece tra i supporter degli altri carri non si sapeva cosa era successo sono iniziate pian piano ad arrivare notizie sulle cadute dei buoi che non ce la facevano però a rialzarsi senza carro accompagnati a piedi sono poi arrivati i buoi dei giovanetti e a seguire quelli dei giovani classifica dunque ribaltata rispetto alla partenza dove il sorteggio aveva favorito gli arancioni i pronostici davano per favoriti invece i giovani partiti in terza posizione ma la caduta di un buo è stata fatale che è successo avete avuto un problema è caduto un buo eh sì purtroppo in velocità stavamo superando avevamo superato già i giovanotti stavamo superando pure i giovanetti sicuro stavamo uscendo avanti purtroppo è caduto il buo piccolo non ce l'ha fatta per riprendersi eh no no poi si è ripreso però non abbiamo voluto noi continuare la gara continuare la gara tanto non serviva più come è andata cosa è successo abbiamo perso la corsa si è messa in gioco a due chilometri e mezzo dall'arrivo ha perso il buo di destra andando venendo verso il paese si è quasi fermata fino al punto tale che è caduto come è andata come è andata bene abbiamo vinto ma avete sorpassato si eravamo secondi contentissimo questo durerà un altro anno poveri per loro perché noi siamo contentissimi e siamo troppo forti contentissimi ci dispiace per gli altri due carri che non si sa che è successo per loro ci dispiace tanto speriamo che non si sono fatti male ci speravate nel sorpasso eh si ci speravamo creiamo un carro forte abbiamo un alleato forte noi siamo un carro forte abbiamo tutti i ragazzi che ci danno una mano siamo un gruppo unico vi facciamo un altro nelle cadute sono rimasti coinvolti anche diversi cavalieri che sono stati medicati sul posto così come anche gli animali i quali al termine della gara sono stati sottoposti ai controlli antidoping del servizio veterinario dell'ASREM così come prevede il nuovo regolamento delle carresi importante anche il dispiegamento di forze dell'ordine con poliziotte in tenuta antisommossa tutto però si è svolto senza problemi ed è tutto per questa nostra rubrica sette giorni di cronaca grazie per averci seguito appuntamento a domenica prossima buona domenica a domenica prossima